Siamo con il professor Giureppe Pulino, presidente dell'ASPA e oggi parliamo di carne o non carne, carne e verdura. A questo punto la domanda è, professore, questa globalizzazione ha messo un po' in crisi tutti quanti, quindi c'è chi dice che la carne fa male, c'è chi dice che invece non fa male. Il suo pensiero? La globalizzazione in realtà non è il problema fondamentale, il problema fondamentale è dato dall'aumento della popolazione, da una parte abbiamo festeggiato la nascita del 7 miliardesimo abitante nostro contemporaneo, recentemente si prevede che fra una trentina d'anni arriveremo a 9 miliardi come massa complessiva di popolazione abitante nel pianeta, ma soprattutto ci sono paesi che hanno iniziato ad avere redditi importanti e stanno emergendo da una marginalità economica e per cui si sono messi a consumare carne e prodotti di origine animale. Questo ha fatto sì che nelle proiezioni della FAO da qui al 2050 l'aumento degli alimenti di base, cereali, riso sostanzialmente, seguirà sostanzialmente l'aumento della popolazione, avremo un più 40%, mentre per gli alimenti di origine animale avremo più 250%. Questo è dovuto sia, ripeto, aumento di popolazione, maggiore reddito, ma anche un terzo fenomeno che è l'inurbanizzazione. La popolazione ormai per il 60% risiede in città. Oggi sono delle megalopoli, domani saremo di fronte a ecumenopoli di 30-40 milioni di persone, di cui approvvigionamento sarà molto più dispendioso di quanto non lo sia nelle popolazioni rurali. La catena alimentare si allunga, gli sprechi aumentano, per cui avremo bisogno di molti alimenti per alimentare queste enormi masse di popolazione più ricche, perciò richiederanno più proteine animali e più concentrate in queste città. Però sta venendo fuori questa scuola di pensiero che dice che la carne fa male, quindi se è vero, con che cosa nutriremo queste persone? Beh, la scuola di pensiero che la carne fa male è una scuola di pensiero tutta occidentale, chiamiamo dei paesi ricchi. Probabilmente ha troppa carne e fa male, ma come fa male? Troppo amido. Troppo amido crea un aumento di peso e crea sindrome metabolica, come fa male troppo alcol. Anche se c'è il paradosso italo-francese che dice che il consumo di alcol riduce i rischi cardiovascolari, ma l'aumento eccessivo di consumo di alcolici crea anche altri problemi, compresi gli incidenti stradali che sono a mortalità quasi certa, non a mortalità probabile, per cui modus irrebus. La carne in sé non può far male per un motivo banale, perché l'uomo nei suoi 5 milioni di anni di evoluzione si è evoluto proprio su una nicchia alimentare che prevedeva costantemente il consumo di prodotti d'origine animale. Ha iniziato con un piccolo animale, ha iniziato con vermi, romache, chiocciole, piccoli pesci e poi diventato un animale sociale. E proprio diventare un animale sociale l'ha reso capace di cacciare grosse prede, ha scoperto il fuoco e questo ha fatto sì che si approvvigionassi di alimenti sempre più ricchi e ha fatto sì che il cervello dell'uomo oggi sia oversize rispetto a tutto il resto dei mammiferi. Per fare un esempio, se noi dovessimo avere il nostro cervello proporzionato alla nostra massa corporea, dovremmo avere un cervello di 400 cc, come quello di uno scimpanzee o giù di lì. Abbiamo un cervello che vale 4 volte di più, consuma il 25% dell'energia del corpo, è un cervello affamato, ha un metabolismo 9 volte superiore a quello di tutti gli altri organi che costituiscono il corpo umano e ha bisogno di alimenti molto ricchi. Ma in fase infantile un bambino consuma il 75% di energia nel cervello e ha assolutamente bisogno di elementi che vengono dalla carne, che sono la vitamina B12 e sono alcuni acidi grassi essenziali che entrano nella formazione di quelle che sono le fibre nervose. Per cui non consumare alimenti di origine animale in fase di fine gestazione e in fase di allattamento o di svezzamento può comportare gravi ritardi mentali nei bambini. Perciò la carne fa bene perché stabilmente parte della nostra dieta da sempre. Noi siamo uomini perché siamo stati carnivori e dobbiamo continuare ad esserlo in maniera razionale.